Sono qui oggi per presentarvi due splendidi galletti, Flash e Geremia. La loro storia è una storia di persone che detengono varie specie animali e quindi alla fine fanno un po' di confusione su come devono essere gestiti. Loro sono arrivati qua a seguito di una sorta di sequestro benevolo da parte delle guardie zoofili. Siamo riusciti a sistemare con noi le galline, ma avendo un sacco di galli, loro siamo un po' in difficoltà a poterli gestire perché fanno un po' baruffa con gli altri. Quindi se qualcuno ha il posto per poterli detenere liberi in pace come teniamo gli altri noi, saremmo ben lieti di poterli affidare a queste persone. Sono proprio carini Flash e Geremia. Voi mi direte, vabbè ma Michela ci fai adottare un gallo, anzi due. Sì, ok, mi rendo conto. Normalmente io vi propongo cani, vi propongo gatti. È più semplice forse immaginare di convivere con questo cucciolo che con un galletto. Però guardate che in realtà non è così. Se avete un piccolo giardino o un pezzettino di terra dove lui possa vivere e razzolare, sarà un compagno simpatico per la vostra vita. E quindi telefoniamo per adottarli al 338 54 15 763 oppure come al solito scriviamo a portami a casa chiocciola dalla parte deglianimali.it